Le persone mi chiedono nelle produzioni spesso come avete fatto da Arezzo, perché di solito il cinema e le pubblicità sono a Roma e Milano. In questo caso da Arezzo, dove non è connesso in qualche modo, siamo riusciti ad emergere, farci conoscere e apprezzare nel mondo della cinematografia. Sono partiti da Arezzo ed hanno sorvolato i set più ambiti, solamente l'ultimo di una lunga serie di impegni nel cinema è stato quello con il documentario Dietro la scienza di Avatar, sempre con il regista James Cameron. È un documentario che ci ha fatto girare diversi posti nel mondo, bellissimi, interessati, quindi è una soddisfazione poter lavorare per James Cameron a questo progetto. Drone Arezzo è lanciatissimo nel grande schermo e molto apprezzato anche nelle produzioni straniere. Possiamo dire un paio di progetti importanti a cui abbiamo lavorato come Fast and Furious 10, adesso stiamo lavorando a Equalizer 3 con Denzel Washington, abbiamo fatto un film The Old Guard 2 con Charlize Theron e Uma Thurman. Drone Arezzo adesso festeggia gli importanti traguardi raggiunti ed anche una nuova sede. Grazie a un lavoro di squadra che abbiamo fatto, sacrifici in questi anni, questa sera ci godiamo questo nostro piccolo traguardo, speriamo che ce ne siano comunque altri, non sarà l'ultimo. Però siamo molto fieri di inaugurare questa nuova sede che ci dà la possibilità di avere più piacere, a continuare a cercare nuovi traguardi, anche semplicemente arrivare al lavoro in un ambiente più accogliente, oltre che gli spazi che aumentano e ci permettono di organizzare meglio il lavoro. Grazie a tutti.